Aomei Partition Assistant ragazzi questo è un software che non potete non avere è veramente forse la pietra miliare dei software di questo tipo sapete che quante volte ci ha dato la classica salvata certo ragazzi bisogna avere una certa praticità acquisita in anni di esperienza come abbiamo fatto noi per utilizzare questo programma con una certa tranquillità perché vi assicuro ragazzi come ho già detto a noi per fortuna non succede ma giocando con questo software vi potrebbe capitare che a furia di partizionare qui partizionare là ripeto per fortuna a noi questo non succede ma potreste trovare il vostro hard disk diviso in tante piccole partizioni e lì ragazzi altro che mani nei capelli ma come ho già detto con tutta questa esperienza per fortuna no questo non succede Alla faccia dell'esperienza eh questa è tutta l'esperienza acquisita in anni e anni di allenamento tecnico vabbè ragazzi a parte scherzi vi assicuro ragazzi questo software è spettacolare veramente per noi è diventato proprio il classico attrezzo da tenere nella cassetta degli attrezzi sempre perché ci ha dato veramente più di una salvata però devo dire ragazzi bisogna fare la dovuta attenzione perché state giocando con l'hard disk con le partizioni con estri dati quindi il consiglio che vi do quando utilizzate questo software fate sempre prima delle prove magari su un hard disk esterno vuoto provate impratichitevi di questo programma provate prima a partizionarlo a cambiare il registro a fare tutte le modifiche la clonazione non avete idea le cose che permette che poi questo software esiste veramente ormai da molti anni ma andando avanti piano piano si è andato evolvendo e ha aggiunto funzionalità che vanno sempre meglio il vantaggio grosso di questo software è che è una certezza ragazzi funziona proprio bene vi darò una velocissima passata sulle funzionalità e mi soffermerò su alcuni punti che per noi secondo noi sono fondamentali e vi darò anche una bella chicca che molti non conoscono veramente in pochi conoscono o pochi sanno che invece per quanto riguarda appunto i vostri backup le eventuali colonazioni vi assicuro che è fondamentale quindi seguite il tutorial perché questa ve la svelo ragazzi quanto mi sento bello quando ve la svelo allora guardate ragazzi passiamo da quest'altra parte perché vi voglio far vedere una cosa se andiamo direttamente sul sito di Aumei Partition Assistant clicchiamo vedete e scriviamo appunto Aumei Partition Assistant che è proprio quello che dovete digitare vi riporta praticamente dovete cliccare qua sulla seconda voce Free Partition Manager Software for Windows Aumei ok? qui andiamo proprio nella pagina di Spark lo vedete? dove praticamente ci affacciamo proprio sul sito della Aumei eccolo qua ragazzi vedete Flash Sale in questo momento proprio in questo momento che purtroppo sto facendo il video c'è un 25% di sconto con questo coupon vedete? e al 35% per la versione logicamente Professional Workstation allora queste offerte vengono fatte molto molto spesso tenetele in considerazione tenetele presente perché alcune volte veramente conviene acquistarlo poi vedete voi però vedete qui c'è Download Freeware eccolo qua lo vedete? con questo tasto andrete a scaricare la versione Freeware qual è il discorso? se andiamo per esempio in Forum e andiamo a fare Edit Comparison che sarebbe a dire praticamente vanno a comprare le varie edizioni andiamo a fine su questa pagina dove appunto vi far vedere eccolo qua guardate la versione Free la versione Professional vedete? guardate ve la faccio vedere meglio Standard che è anche la versione Free la Professional, la Server, la Limited e la Technician ripeto per quello che offre il software è assolutamente consigliato poter avere la versione Professional almeno perché tanto quello è un software che tenete lì e non avete idea se usate formattare la macchina e modificare l'hard disk creare dei backup le volte che vi sarà utile noi ormai non contiamo più le volte che le utilizziamo che ne abbiamo avuto bisogno e ci ha come ripeto data la famosa salvata quindi adesso vi lascio comunque il link per poter scaricare eventualmente la versione Free andiamo ad aprire il programma e andiamo a vedere che cosa ci offre e in linea di massima come si utilizza allora tanto per farvi capire che l'esperienza è abbastanza relativa e per non rischiare appunto come vi ho consigliato anche noi vedete questo è un semplice hard disk da due pollici e mezzo che io utilizzo per fare delle prove ho questa splendida vedete questo splendido box questa macchinettina chiamiamola la vedete dove se io vado ad inserire questo poi voi potete utilizzare un tranquillissimo hard disk esterno io adesso questo perché ce l'ho proprio per le prove ho questo box che mi fa da interfaccia perché questo permette per esempio di poter interfacciare sia hard disk da due pollici e mezzo quelli piccoli sia gli hard disk quelli da due pollici e mezzo sono quelli grandi tant'è vero che se io vado a inserire quindi lo sportellino questo hard disk vedete adesso l'ho incastrato eccolo qua ragazzi vedete quindi questo hard disk in questo momento mi funziona come un normalissimo hard disk esterno quindi non vi state a preoccupare se non avete tutto questa maratanna basta un semplicissimo hard disk esterno che vi consiglio caldamente di utilizzare per evitare problemi in modo che fate tutte le prove test che volete sempre molta attenzione adesso capirete perché in modo che una volta che vi siete impratichiti poi passerete all'utilizzo sui vostri hard disk quelli importanti questo è un programma veramente molto potente ma anche pericoloso di essere utilizzato nel modo sbagliato non vi voglio mettere paura vi voglio solo preparare a eventuali sbagli ok? andiamo a vedere come si utilizza allora una volta attaccato l'hard disk esterno sempre per sicurezza ragazzi fatemi retta sempre per sicurezza possiamo passare direttamente sul programma non vi faccio vedere come si scarica e come si installa perché qui veramente la procedura è molto semplice perché vi ho fatto vedere da lì scaricate il free se lo volete testare l'installazione è solita ok ok va bene va bene e il programma si installa addirittura esiste la possibilità di creare una versione portable poi vi faccio vedere come ve lo permette il programma stesso purtroppo la versione professional e la free non ve lo permette ragazzi questo è una delle cose veramente molto molto comode soprattutto per noi tecnici che utilizziamo su più computer la versione portable però la versione free purtroppo non ve lo permette però è una gran comodità il fatto della portable quindi poi valutate voi come al solito passiamo da quest'altra parte eccoci qua ragazzi siamo sul programma già avviato e già aperto così di impatto effettivamente può dare un attimo dice oddio adesso con tutte queste funzioni no ragazzi come dico sempre queste funzioni che vedete qua sulla sinistra sono poi alla fine sono tante ma non tantissime e alcune di queste che stanno qua in cima ragazzi poi si ripetono contestualmente anche qua a sinistra quindi non vi spaventate subito guardate andiamo con ordine così la cosa diventa molto molto più semplice vedete qui allora aspettate ve li faccio vedere da vicino qui vedete guardate questo primo tasto questo è importantissimo vedete che c'è scritto applicare ancora non è cliccabile il bello di questo programma ricordatevelo sempre che innanzitutto vi permette guardate di andare avanti o indietro nelle scelte ma indipendentemente dal fatto che vi siete sbagliati e volete tornare indietro che è già una gran cosa ricordatevi sempre che per poter effettivamente mettere in atto la modifica che voi avete scelto dovrete sempre e dico sempre cliccare alla fine su questo tasto qua cioè applicare lo vedete? se voi non cliccare su applicare anche se visivamente lui fa vedere il cambiamento adesso capirete se non cliccate su applicare e quindi procedete al cambiamento il cambiamento in realtà in atto non c'è cioè non avete fatto il cambiamento non avete fatto la modifica quindi ogni volta che scegliete un'opzione ricordatevi che alla fine dovete comunque sempre alla fine cliccare su applicare altrimenti non c'è nessuna modifica e questo può sembrare ma perché? l'ho scelta? l'ho fatta no ragazzi ringraziate il cielo che c'è questa opzione noi l'abbiamo capito dopo con applicare voi avete fatto un ulteriore controllo che delle volte fidatevi è benedetto benedetto quindi ricordatevi sempre questo passaggio alla fine applicare altrimenti non c'è nessuna modifica andiamo per ordine questi tasti poi li vediamo dopo vedete qui c'è anche scartare anche questo vi fa capire no? spostare OS questa è una delle prime funzioni che ci permette partition assistance se io adesso guardate ragazzi prima di andare a guardare le funzioni lo volevo far vedere già prima voi avete due modalità di visualizzazione che praticamente sono le stesse qua sopra vedete vi fa vedere gli hard disk per esempio io ho l'hard disk C con lo spazio per il sistema questo è l'hard disk che utilizzo vedete scusate questa è sempre una partizione di C poi c'ho il disco 1 quindi quella libera dove ancora posso mettere dei dati poi c'ho il disco 1 praticamente che invece appunto è il disco come vedete scritto qua guardate c'è scritto dati che è il disco che utilizzo appunto per il software per i miei dati per tutto quello che mi serve quindi come disco archivio ma se io scendo vedete che qui ho anche disco 2 vedete ragazzi che poi se vedete bene Win2Go perché io l'ho utilizzato per fare delle prove con Win2Go sarà un altro tutorial che sarà oltre quello che già ho fatto vabbè adesso non vi spoilerio nulla comunque questo è quello che adesso utilizzeremo per fare le varie prove guardate sotto avete in misura forse più comoda noi di solito utilizziamo la parte di sotto ma è equivalente poi alla fine sempre il disco 0 che praticamente come potete vedere c'è la parte di C che è tutto l'hard disk C principale con la parte eccola qua riservata per il sistema e una piccola partizione che rimane alla fine che molto probabilmente io questa potrei cambiare adesso non è il caso ve lo faccio vedere in un altro modo anche qui c'è il disco D dati eccolo qua lo vedete che ha poco spazio perché io praticamente gli è rimasto poco perché l'ho quasi strariempito ed è il disco 2 dove praticamente faremo delle prove ragazzi molta molta attenzione perché vi ho fatto vedere questo voi poi utilizzerete la visualizzazione che preferite ripeto noi normalmente utilizziamo questa sono equivalenti ma vedete che in questo momento ho il disco questo qua vedete guardate disco 0 che è evidenziato in verde vuol dire che io le operazioni che andrò a fare in questo momento le faccio sul disco 0 cioè sul mio disco principale la prima cosa che dovete fare attenzione è cliccate sul disco vedete io qui ho fatto un click se clicco sul disco eccolo qua sul disco 1 sto sul disco 1 se clicco sul disco 2 sto sul disco 2 fate questa operazione immediatamente perché la prima cosa proprio per tranquillità cliccate sul disco sul quale potete rischiare male che va avete fatto una modifica ma chi se ne frega non avete toccato gli harddisc quelli principali ok ricordatevi che se cliccate qui sulla parte sinistra dove c'è scritto appunto disco 2 base mbr e via dicendo cioè questa nella fattispecie voi state selezionando un disco se io clicco da questa parte cioè tutta la parte bianca che poi è uguale alla partizione del mio disco che in questo caso è unica se io clicco qua vedete che è diventato verde la partizione è diventato è ritornato azzurro disco 2 lo vedete questo perché a secondo guardate qua a sinistra ragazzi a secondo se io clicco su questa parte a sinistra quindi il disco o questa parte a destra lo vedete qua sotto che è la partizione vedrete che questo menu di sinistra mi cambia contestualmente guardate clicco sul disco e mi appaiono vedete delle opzioni clicco qua sulla partizione e le opzioni aumentano di conseguenza adesso le andiamo a guardare ma questo ve l'ho detto perché è importante quindi fate attenzione a questo discorso perché cambiano le funzioni se state sulla partizione principale quella quindi se identificate se state facendo una modifica sul disco o sulla partizione del disco ok questo ve l'ho detto così per premissa andiamo a guardare a questo punto le opzioni che abbiamo qua su partition assistant allora andiamo a vedere qua la prima opzione che ci dà è spostare OS quindi spostare il sistema operativo se io vado a cliccare su spostare OS automaticamente che cosa mi va a dire logicamente che posso migrare un sistema operativo per esempio su SSD questo mi dà una procedura guidata che vale per tutte le opzioni che andremo a guardare quindi se io vado a fare avanti e ve lo faccio vedere un motivo ben preciso lui adesso che cosa fa mi dice selezionare lo spazio sul disco seleziona lo spazio non allocato su SSD o su hard disk normale ok io qua per esempio ho il disco 2 che è quello che vado a fare le prove che però è tutto impegnato giusto se io ci vado a cliccare gli dico che lo voglio qua lui intelligentemente capisce che ho già delle partizioni già qualcosa di occupato e mi dice voglio eliminare tutte le partizioni sul disco 2 per migrare il sistema operativo nel disco se non vogliamo eliminare le partizioni ci consente lui di spostarle cioè avere la possibilità vedete di selezionare uno spazio libero per la migrazione sempre se la capacità del disco lo consente però quello vi fa capire intelligentemente lui vi segnala tutto ecco perché vi dico è un gran programma se io in questo caso volessi eliminare tutte le partizioni io non vado altro che a cliccare perché questo harddisk lo voglio cancellare voglio semplicemente utilizzarlo per migrare il mio sistema operativo e riutilizzarlo per fare delle prove su un altro computer perché sto migrando il mio sistema operativo posso a quel punto sostituire il mio harddisk principale ci siete? se io vado a fare a questo punto leviamo lo zoom se vado a fare avanti vedete lui mi entra sul discorso proprio dell'harddisk guardate vedete che adesso per esempio la partizione è tutta verde ma se io mi posiziono guardate in questo punto qua lo vedete ragazzi che cambia la freccia io posso spostare la partizione se io mi mettessi a questo punto qua è come se dicessi alla partition assistant riservami questo spazio qui per il sistema operativo ma lasciami questo spazio vuoto non allocato perché poi io posso eventualmente allocarlo cioè fare in modo che quando andrò a accendere e entrare nell'harddisk avrò una parte occupata dal sistema e nemmeno tutta perché minimare uno spazzino bianco vedete quindi ancora in parte questa partizione la posso utilizzare ma avrò tutto quest'altro spazio libero per poterci mettere altra roba ecco cosa mi permette partition assistant ecco la potenza a questo punto io potrei fare avanti ricordatevi che pur facendo avanti io se non vado a fare applica comunque non metto in atto la modifica ricordatevelo sempre adesso leviamo lo zoom il bello è che adesso io faccio indietro non è inutile che vado a provare questa cosa perché è lunga la potete provare da soli basta che lo provate come dico sempre su un harddisk che non ve ne può importare di meno quindi farò semplicemente indietro e ritorno chiudendo qui a nessuna modifica ricordatevi sempre se l'avessi voluto fare di andare a cliccare applicare questo vale per tutte le modifiche che avrete voglia di fare se non cliccate applicare ve lo ripeto ancora perché succede spesso che ve lo scordate e non capite perché la modifica non è stata fatta se non cliccate applicate non si modifica nulla lo so vi sto facendo una testa così ma vi assicuro che è una delle cose che uno agli inizi si scorda sempre lo so succede allora spostare a essere l'abbiamo visto colonare disco ce lo teniamo per un attimo perché qui vi do una chicca che vi assicuro che vi farà molto comodo poi qui abbiamo dopo colonare disco pulire disco ragazzi questo è molto semplice apriamo la finestra lui che cosa va a fare semplicemente va a sovrascrivere se voi volete veramente pulire l'hard disk volete stare sicuri hard disk ssd che sia nvme che sia qualsiasi tipo di hard disk sia lui va a cancellare ma sovrascrivendo i dati sul vostro hard disk vi da quattro modalità io vi consiglio allora riempire i settori con lo zero è una delle modalità più sicure e ve la dice come è veloce poi c'è riempire i settori con dati casuali sicuro e veloce se proprio volete non aspettare tanto tempo perché vi assicuro a seconda della capacità del disco ci vuole veramente tanto tempo per sovrascrivere in questo modo di utilizzare per esempio il gutman che 35 volte molto sicuro molto veloce o anche il dod questo qui che è molto sicuro e veloce però quello più veloce è questo qua diciamo non dà la stessa sicurezza a meno che voi proprio non abbiate necessità veramente di cancellare tutti i dati allora partite con i settori con lo zero ma se è per un vostro discorso di tranquillità e di riutilizzo vi consiglio l'ultimo modo ok questo semplicemente lo chiudiamo e ritorniamo qua al menu dunque dopo la pulizia disco troviamo convertire disco qua il discorso anche è abbastanza semplice per chi è del settore sei sicuro di voler convertire il disco sezionato a MBR a GPT come dico sempre fate attenzione vedete io qua sto selezionando non il disco ma la partizione mi conviene andare sul disco se voglio cambiarlo da MBR Master Boot Record a GPT Git Partition Table che è praticamente appunto la modalità che servirà poi per l'UEFI non entriamo nel tecnico vi ho fatto un tutorial andate a guardare lì vi spiego qualcosa in più adesso se io voglio convertire il disco lui mi dice ma sei proprio sicuro di convertire da MBR a GPT adesso non è il caso di andarlo a fare perché non mi serve ma ci sono situazioni dove per esempio se voi volete migrare il sistema e avete un sistema come in questo caso in MBR come ce l'ho io ma volete metterlo su un computer nuovo che è un computer UEFI e che quindi ha bisogno di una partizione preferisce una partizione GPT a questo punto senza rischiare di perdere tutti i dati e questo è il vantaggio di partition assistant voi potete mantenere per esempio tutta la partizione cioè questa questa qua tutta la partizione senza nessuna modifica e fare in modo che la base MBR diventi una base GPT cioè guardate che cosa vuol dire guardate eh ragazzi questo ve lo faccio vedere perché per una vostra comodità base MBR converti disco lo faccio gli dico di sì voglio convertire faccio ok guardate che cosa è successo ragazzi vedete che mi ha fatto base GPT lo vedete? adesso io potrei mettere questa hard disk in un sistema UEFI magari ho già migrato un sistema oppure ho già vedete Win2Go ma lo voglio utilizzare in un computer che è UEFI quindi voglio avere la come si dice l'omogeneità di un computer UEFI con un hard disk GPT ricordatevi sempre che io fino a questo punto la modifica realmente non l'ho fatta come potete vedere lui qua mi segna 01 e mi attiva il pulsante applicare che è quello che vi ho detto fino adesso 01 perché ho una modifica materialmente in atto se cliccassi applicare a questo punto lui realmente mi andrebbe a convertire da MBR in GPT questo disco che sta utilizzando se la cosa non la voglio fare ecco qua che si è attivato anche il pulsante a scartare io clicco guardate su scartare mi sparisce tutto e come possiamo vedere guardate qua mi è tornato in base MBR ecco tutto l'ambara d'anne che vi ho fatto vedere fino a questo momento sul pulsante applicare questo è molto importante poi per quanto riguarda il resto c'è tutorial e gratis backup che è praticamente un'opzione che vi riporta su internet e vi consente di avere la possibilità di fare un backup con un'opzione gratis andatevela a guardare andatevela a guardare no ragazzi non è importante poi ve la guardate con comodo da subito allora queste sono le opzioni principali qua sopra andiamo a vedere queste di lato dice ma che ti sei scordato il discorso di clonare disco no ragazzi non me lo sono scordato adesso ve lo faccio vedere adesso mi direte ma perché colonazione clonare disco te lo sei tenuto per ultimo è un qualcosa di complicato o particolare no ragazzi assolutamente qui è il punto dove veramente posso dire è un discorso di esperienza perché vi ho detto vi do una chicca perché noi di programmi di colorazione ne abbiamo utilizzati non avete idea quanti una cosa che vi assicuro che non vi dice nessuno quella non ve la dice nessuno perché lì come si risol dire in modo educato ci si deve sbattere la testa si dice in un altro modo ma diciamo che la realtà è che lì veramente bisogna sbatterci la testa molti programmi di colorazione sono ottimi e dico veramente ottimi anche partition assistant nella fattispecie ma nessuno vi dice che un programma di colorazione va a prendere esattamente l'immagine del disco da clonare e la riporta para para come si suol dire sul disco di destinazione cioè quello che dovete appunto riprodurre dopo veramente tanta esperienza abbiamo capito una cosa fondamentale adesso ve la faccio vedere passiamo di qua ragazzi guardate allora abbiamo detto appunto clonazione disco eccolo qua vedete clonare disco allora se io vado a cliccare su clonare disco lui logicamente cosa fa mi dice clonare disco rapidamente o clonare settore per settore normalmente voi utilizzerete clonare disco rapidamente cioè questa opzione qua se io faccio clonare disco rapidamente e faccio avanti mi riporta logicamente su questa qua dice selezionami su questa finestra seleziona il disco di origine mettete che io voglio clonare il mio sistema a questo punto vi dice tutte le partizioni del disco di origine saranno copiate nel disco di destinazione avendo questo disco selezionato questo qua vedete disco 0 appunto eccolo qua io che faccio posso andare avanti adesso lui però mi chiederà il disco di destinazione ci siete come disco di destinazione io posso mettere il disco 2 eccolo qua vedete me lo seleziona mi ha messo il disco 2 dice attenzione tutti i tasti del disco di destinazione gioco forza verranno eliminati dal processo di partizione e di clonazione perché lui andrà a riprodurmi le esatte 3 partizioni che io ho sul disco C quindi pur qua avendone una alla fine della clonazione io me ne troverò 3 perché sta facendo appunto una clonazione ottimizza le prestazioni di SSD questo è una casella che vi consiglio di fleggare se voi la clonazione la state facendo da un hard disk normale a un hard disk SSD o anche da un hard disk SSD a uno stesso SSD questa è una particolarità di partition assistant che serve per far sì che quando voi andrete a mettere il disco clonato nel sistema per farlo ripartire questa è una sicurezza in più che il tutto vada a posto ok normalmente se noi a questo punto facessimo avanti procederemmo con la clonazione perché vi ho fatto la premessa vi ho detto dico ma molte volte non funziona e non ve lo dice nessuno vi dicono utilizzate questo software perfetto fa la clonazione e vi fanno vedere sempre alla fine il disco di backup o il disco clonato che funziona perfettamente non è così ragazzi per esperienza vi dico che non è così ci sono due volte che non va non va fallisce ok una cosa che vi dà una vera sicurezza bisogna acquistire un po' di dimestichezza ma vi dà una vera sicurezza è fare in modo che le partizioni non vengano fatte dal programma di clonazione che state utilizzando ma fate in modo che vengano precedentemente fatte da voi grazie all'utile di gestione disco cosa vuol dire se noi abbiamo per esempio in questo caso il disco 2 che è il disco che io voglio utilizzare per destinazione quindi qua sopra parlo con il sistema ci siete basta che vado qua sullo start clicco con il tasto destro e vado a scegliere appunto gestione disco ok ragazzi una volta che io scelgo gestione disco questa è la finestra di gestione disco come potete vedere gestione disco mi dà disco 0 disco 1 disco 0 è il mio disco di sistema e mi darà anche eccolo qua disco 2 che è il disco che stiamo utilizzando in questo momento per fare le prove se io qui ho come potete vedere il disco 0 di sistema una due vedete una due questa qua e tre partizioni se io andassi a utilizzare direttamente la clonazione la clonazione me li riporterebbe esattamente identici ma facendo in questo modo quindi non utilizzando la gestione disco di windows che è quella che vi ho aperto in questo momento c'è il rischio molto spesso che la clonazione poi alla fine pur se sembra andata a buon fine non funzioni ok vi conviene partizionarla voi creare queste tre partizioni prima con gestione disco quindi che cosa fate vi riportate qua per esempio sul disco 2 e adesso questo andatevelo a vedere come si fa se no ragazzi vi faccio fare notte però dentro questa partizione unica chiamata win2go voi dovrete ricreare le tre partizioni già esistenti vedete che qua ce lo dice 50 mega 930 giga 511 mega in questo modo voi ricreerete approssimativamente magari esagerate fatene un pelino più grosse magari in modo tale che state tranquilli più grosse di pochissimo ragazzi però preparate già le tre partizioni in modo che quando utilizzerete il programma di colorazione lui troverà già le partizioni fatte e voi invece di clonare il disco andrete a clonare solo le partizioni come ultima ipotesi quindi nel caso questo andiamolo a chiudere non vi funzionasse la clonazione normale ricordatevi questo espediente ragazzi perché è l'unico che veramente vi mette in condizione che il disco clonato tra virgolette perché voi avete creato le tre partizioni manualmente e avete poi copiato solo le partizioni ma è l'unico sistema che nel caso in cui le varie clonazioni non funzionino questo è sicuro che funziona ragazzi questa è una chicca veramente poi se vi interessa ve la svilupperò proprio facendola vedere ma almeno così vi ho dato un'idea chi già ha una certa praticità sono sicuro che la saprà mettere in atto se vi interessa fatemelo sapere nei commenti in caso faremo un tutorial apposito ok e questa è la clonazione adesso andiamo a vedere qua a sinistra ragazzi qua a sinistra oh ecco il maussino qua a sinistra ci sono tutte le varie funzionalità migrare os su ssd che abbiamo già visto recuperare partizione creare media di avvio allora vedete che io qua sto su disco se io qua in fondo clicco questa chiave inglese o se qua di lato io clicco tutti gli strumenti la situazione è esattamente la stessa mi apparirà sempre questo bel menu dove mi dice creare media di avvio è inutile che vi faccio vedere tutti i passaggi vi dico solo cosa fa creare media di avvio praticamente crea un hard disk o un pendrive come pendrive usb di avvio quindi vi crea direttamente la possibilità di avviare il computer direttamente da pendrive questo tutto contenuto in questo programma migrare os su ssd l'abbiamo visto windows to go creator ho fatto un tutorial apposito questo programma vi permette senza dover conoscere tante prerogative che comunque vi ho spiegato nel tutorial di creare un hard disk un pendrive con windows to go creator che è un programma fantastico adesso farò un altro tutorial apposito per farvi capire a cosa può servire win to go creator quindi però questo software partition and sit down ve lo permette distruggi file lo abbiamo visto creare versione portable che come vedete qua vale solo per la versione tech technician o professional in caso qua purtroppo solo technician oppure mi sono sbagliato ragazzi non va bene nemmeno la pro bisogna avere la versione technician ma in questo caso vi permette di creare una versione portable che voi senza doverla installare ogni volta su un computer semplicemente lo lanciate e avete tutte queste funzionalità quanto è comodo ragazzi poi con la disco wizard lo abbiamo visto clona partizione wizard che è quella che dovrete utilizzare nel caso non vi funzioni come vi ho detto prima la clonazione quindi create le varie partizioni con gestione disco e poi con clona partizione voi andrete a clonare le vostre partizioni esattamente nelle stesse posizioni che avete creato manualmente ok ragazzi più di questo non posso andare avanti se no qua ci sarebbe da fare un tutorial di ore e ore adesso diciamo che facciamo una visione non approfonditissima comunque di insieme ok estendere partizione vi ho dato un'idea prima basta spostarsi qua ragazzi eventualmente sulle varie come vi ho fatto vedere prima quando arriva che vi da il pallino spostarvi a destra o a sinistra e in quel modo possiamo estendere o ridurre l'eventuale partizione ritorniamo qua poi recuperare partizione ragazzi questo non avete idea quanto vi fa comodo non avete idea ragazzi recuperare partizione nel caso in cui succeda spesso succede che viene persa una partizione prima di andare nel panico prima di andare con un recupero dati anche perché si può fare provate partition assistant e recuperate provate a recuperare la partizione non avete idea le volte che ci ha salvato perché lui vede identifica un'eventuale partizione nel caso in cui trovi una partizione mancante ve la contrassegni in rosso e prova immediatamente il recupero 90 volte su 100 ragazzi ci riesce anche 99 non voglio esagerare ma grande questo programma ragazzi veramente grande allora eravamo arrivati appunto a recuperare partizione convertire un ETFs in fat32 può servire in alcuni casi particolari per esempio su una pendrive su un hard disk dove non vi serve la voce praticamente il file system in NTFS ma vi serve in fat32 qui entriamo nel tecno se le azioni un po' particolari magari non le utilizzerete mai ma c'è chi so che può servire magari un tecnico ma già sa come funziona convertire in disco dinamico e gestione in disco dinamico normalmente questo è un discorso che voi trovate soprattutto nelle macchine virtuali che gestiscono i dischi dinamici ma un disco dinamico può essere fatto anche su una macchina normale è un disco che praticamente diminuisce o aumenta la sua capacità in funzione di quello che cancellate o inserite all'interno quindi create uno spazio che si modifica di conseguenza è molto comodo ma dovete approfondire un po' il discorso sul fatto del disco dinamico per capire come utilizzarlo non è questa adesso la sede poi cancellazione sicura l'abbiamo vista vale sull'SSD ma è lo stesso discorso che abbiamo visto prima dove va solo a scrivere il vostro hard disk integrare di recupero praticamente si crea una sorta di voce di menu che voi trovate ogni volta che andate a cercare le utility di recupero automaticamente vi appare anche o mai partition assistant o mai backupper nel caso in cui lo abbiate questa è una funzione comoda che hanno inserito da pochissimo gestione di disco come avevo fatto vedere app mover molto 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 comodo questo è veramente molto comodo perché praticamente fa sì che una volta che avete creato per esempio un clone del vostro hard disk col sistema operativo principale lo avete spostato potete anche prendere perché qualche app qualche software probabilmente potete non averlo più che fate lo perdete questa funzione è spettacolare perché vi permette di prendere l'app dal vostro vecchio hard disk e spostarla senza che voi vi preoccupate di nulla del sistema delle varie modifiche delle varie capacità o delle varie funzionalità diverse da computer a computer perché il software partition assistant si preoccupa di far funzionare questo app questa software che sposterete esattamente allo stesso modo da dove l'avete spostato paro 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 questa ragazzi è veramente comoda allora questo ve l'ho fatto vedere a questo punto questo lo guidiamo andiamo a vedere due cose ma proprio veloci veloci per darvi un'idea e poi chiudiamo il programma perché sennò veramente questo andiamo alle lunghe tanto se vi dovesse interessare sempre nei commenti magari approfondiamo alcune panti perché parti perché questo programma ragazzi veramente le vale quindi veloce veloce nel limite del possibile visione di quello che sono le opzioni quindi ripassiamo di qua e andiamoci a vedere vi ripeto a secondo se stiamo sul disco o sulla partizione come vedete qua a sinistra cambiano le opzioni vediamo le opzioni disco con le disco lo abbiamo già ve l'ho già dato l'idea dunque partizione partizione rapida allora questa ragazzi attenzione perché se io clicco su partizione rapida vi appare questa finestrella che effettivamente un po' può spaventare un pochino vedete in pratica non è molto complicata perché praticamente qua vi dice quante partizioni volete creare perché vedete adesso sono su 4 partizioni e ho già una possibilità di capacità della partizione vedete 60 giga 135 se io metto per esempio 6 partizioni come vedete lui mi aumenta le partizioni e mi fa scegliere quant'è la capacità questo è un discorso leggermente un pochino più complicatino da utilizzare dovete avere una certa dimestichezza però è lo stesso discorso che fa poi gestione disco quindi qua bisogna entrare un po' più nel particolare però vi permette appunto di creare immediatamente le partizioni secondo le vostre necessità il bello è che alcuni dischi se hanno già una partizione non può essere modificata con partition assistant io posso ricreare le partizioni senza attenzione e perdere i dati e questo è il grande vantaggio ripeto purtroppo adesso non vi posso fare un tutorial su tutte queste particolarità perché ogni funzione richiederebbe un tutorial a parte però intanto almeno vi do una vista d'insieme poi eventualmente se c'è qualcosa che vi interessa ripeto lo approfondiremo quindi partizione rapida l'abbiamo visto poi dopo c'è pulire hard disk è quello lo stesso discorso di sovrascrivere con lo zero disco surface test questo è veramente ottimo ragazzi se ci clicchiamo vi va a fare praticamente un controllo della superficie che avete anche in altre modalità anche direttamente da windows ma tanto avete tutto qui all'interno del programma se vi dovesse servire perché non utilizzarlo quindi facciamo cancella ritorniamo qua ricostruire mbr può succedere in alcuni casi che gli hard disk abbiano il settore master boot record quindi mbr corrotto quindi l'hard disk non parte non funziona in alcuni casi provando a ricostruire un mbr l'hard disk torna vivo questa è un'altra opzione eliminare le partizioni se ci sono delle partizioni che non vi interessano e voi volete prima appunto eliminarle per poi poter ridimensionare quelle restanti in questo modo eliminate le partizioni ma questa è una cosa che vi faccio vedere adesso tanto per darvi un'idea pratica di che cosa posso fare che è quella che poi utilizzerete di più convertire in gpt normalmente ve l'ho già spiegato dal disco mbr che è appunto come vedete questo vedete base mbr lui me lo converte in gpt se io voglio utilizzarlo in un sistema wifi ok ssd cancellazione sicura né più né meno fatta apposta per gli ssd la cancellazione che facciamo con la sovrascrittura per esempio degli zeri quello che abbiamo visto prima e proprietà queste sono le caratteristiche per se io ho selezionato il settore disco se vado a selezionare invece la partizione come vedete le opzioni mi cambiano più o meno sono più o meno sempre le stesse perché alcune volte le opzioni si vanno a sovrapporre per tutti e due i settori sia per il settore disco sia per il settore partizione cioè sia per questa parte qua sotto sia per quest'altra dimensione a sposta partizione adesso ve lo faccio vedere ma ve l'ho fatto vedere prima va a automaticamente cosa che normalmente non potete fare con la gestione disco normale di windows ecco dov'è il grosso vantaggio di questo software senza poi assolutamente perdere nessun dato questo è il vantaggio grosso dividere partizione guardate questo per esempio se ho una partizione unica come nel mio caso vedete che è tutto verde e io clicco divida partizione lui già mi dà un'idea che queste due questa partizione singola me la divisa in due logicamente io mettendomi qui in mezzo ed ecco il fatto di ridimensionare una partizione io mi posso spostare dando più o meno spazio alle partizioni ma voi vi rendete conto della comodità ragazzi è veramente spettacolare questo software quindi usciamo da qua ritorniamo alle opzioni allora dunque dividere partizioni app mover l'abbiamo visto sposta le app clonare partizione è quello che vi servirà nel caso in cui non funzionano le clonazioni normali ve l'ho detto ve l'ho spiegato prima dovrete utilizzare clonare partizione e non clonadisco poi creare partizioni nel caso ci sia un settore che magari non è allocato quindi è vuoto ma c'è uno spazio libero voi per esempio utilizzando creare partizioni quella parte del disco che non è stata utilizzata la potete utilizzare come partizione quindi ci potete andare a scrivere sopra eliminare partizioni discorso inverso la eliminate e poi magari la ricreate in un altro modo formattare una partizione è sempre comodo se volete stare tranquilli non eliminate solo la partizione formattate prima tutti i dati all'interno in modo che siete sicuri che il disco che andrete a riutilizzare è completamente pulito e tranquillo questo ve lo spiega adesso nell'esempio subito dopo cambiare etichetta avete un disco contrassegnato con E ma avete sul computer C e D e avete e magari fate finta invece di E fate finta G ve l'hanno quel disco appena è stato inserito nel computer l'avete attaccato e contrassegnato con G dicevano come io ho C e D perché G dammi almeno la E ecco cambiare etichetta equivale a dire che il disco contrassegnato come G voi lo potete rinominare in E quindi avrete C, D e E comodo no? logico pulire partizione stesso discorso come pulire il disco ma va a pulire semplicemente la partizione con sovrascrivendo come abbiamo visto cambiare lettera di un scusate cambiare etichetta mi sono sbagliato io perdonatemi cambiare etichetta è cambiare il nome del disco che avete assegnato e invece è cambiare lettera di unità quello che vi ho detto prima cioè fate vinta G lo potete trasformare in E se il disco lo avete chiamato dati e lo avete chiamato Pippo dovete utilizzare gestione etichetta perdonatemi è un mio errore poi nascondere la partizione può essere utile in alcuni casi dove c'è una partizione con dati che non volete che sia visibile convertire in logica è un discorso da non prendere adesso verificare partizione anche questa è molto comoda perché se noi andiamo a fare verifica partizione lui semplicemente mi va a fare tipo il ch disk vedete in questo caso utilizzerà il chk disk .exe che è quello che utilizza Windows mi va semplicemente a controllare la partizione praticamente del eccolo qua ritorniamo qua sopra mi va a verificare semplicemente la partizione se c'è qualche errore all'interno della partizione cambiare tipo di partizione non è nemmeno questo il caso perché richiede un discorso un po' più lungo cambiare il numero di serie non lo utilizzerete praticamente mai allineare la partizione è quello che avete visto prima nel caso in cui voglia fare una colonnazione su un ssd allineare la partizione vuol dire che quando si andrà a fare la colonnazione o nel caso abbiate già le partizioni sul vostro disc allineandole il disco funzionerà nel miglior modo in maniera ottimale tant'è vero che se io ci clicco sopra guardate ragazzi su allineare partizione lui mi va semplicemente a dire che imposta l'allineamento sulla partizione come ottimizzato poi noi potremmo scegliere delle opzioni ma normalmente si utilizza ottimizzato per non complicarsi la vita e mi dice che appunto la partizione corrente è già ottimizzata perché l'ho fatto quando ho creato appunto il disco quindi questo lo andiamo a chiudere ok una volta che abbiamo fatto allineare partizioni qui abbiamo finito le opzioni vi faccio vedere la cosa che normalmente utilizzerete in maniera spiccia di più in assoluto e chiudiamo il tutorial ma almeno vi do un'idea pratica di che cosa potete farci allora andiamo a vedere credo presumo l'utilizzo pratico che utilizzerete scusate il gioco di parole di più in assoluto qual è passiamo di qua allora ragazzi rifacciamoci sempre al nostro disco di esempio che è questo appunto disco 2 al momento sto sulla partizione normalmente cosa succede ragazzi questo è l'utilizzo che anche noi facciamo più spesso molto spesso se voi lavorate sugli hard disk e se questi hard disk in alcuni casi sono stati utilizzati da altri software per creare delle partizioni per creare non so un sistema operativo avete fatto per esempio un hard disk come nel mio caso win2go tanti software allora se win2go lo fate come ve l'ho spiegato nel tutorial voi avrete un hard disk con una singola partizione utilizzabile normalmente ma se per esempio anche con lo stesso partition assistant voi andate a creare win2go i software proprietari quindi come partition assistant come win2 usb ci sono diversi software che creano delle loro partizioni che al momento in cui voi andate a riutilizzare l'hard disk che avete creato per un altro utilizzo quindi lo volete formattare alcune partizioni non solo non vengono viste ma non ve le fa formattare quindi quando voi andate a formattare l'hard disk magari da 500 giga andate a guardare la capacità e ve ne trovate 380 ma come ho formattato tutto vi assicuro che non è mai normalmente in quei casi possibile recuperare la partizione con i normali utilizzi di windows 10 con gli strumenti di windows 10 è qui che partition assistant diventa e noi è lì che lo utilizziamo tantissimo veramente fondamentale cosa vuol dire partition assistant va a vedere tutto l'hard disk in tutte le sue partizioni anche quelle nascoste vi permette di formattare eliminare le partizioni ripristinare il disco alla condizione originaria con una singola partizione anche non allocata quindi non formattata non inizializzata e riutilizzare l'hard disk per qualsiasi altro utilizzo che è esattamente quello che io puntualmente faccio con l'hard disk che adesso sto facendo queste prove perché potete immaginare ci faccio sopra di tutto quindi delle volte lo mando proprio in palla povero hard disk qual è l'esempio pratico guardate la prima cosa che posso fare e così vi faccio vedere una particolarità io posso anche non utilizzare le voci di menu posso semplicemente posizionarmi per esempio sulla partizione cliccare con il tasto destro attenzione e mi appare mi appaiono anzi questa mi appare questa finestra dove mi appaiono queste opzioni ok io posso direttamente da qua senza andare nel menu come vi ho fatto vedere prima per esempio in questo caso voglio creare una partizione facciamo l'esempio pratico perché ho una partizione unica non mi serve perché win2go magari mi basta la metà di questa hard disk e voglio creare una partizione faccio creare partizione e come vedete lui mi dà l'esempio di prima potrei decidere quanto fare di partizione ricordatevi che lui tutti i dati me li tiene spostati nella partizione non me li fa perdere e mi crea quest'altra partizione faccio ok vedete guardate ragazzi che cosa ha fatto lui mi ha creato una partizione h vedete mi ha creato quest'altra partizione eccola qua ragazzi ricordatevi che se io voglio effettivamente fare questa questo cambiamento devo andare qua su in applicare cosa che adesso facciamo cliccare su applicare mi apparirà a questo punto la finestra dove mi riassume le modifiche che andrò a fare e questo varrà per tutte le modifiche che farete ogni volta ok e devo cliccare su procedi vedi qua ragazzi facciamo facciamo l'esempio classico mettete che dentro questa harddisk ci sono più partizioni indiscutibilmente esistono più partizioni che noi non vogliamo più vogliamo ricreare il disco nella condizione di origine clicco in questo caso con il destro eccoci qua rimettiamoci innanzitutto con il mouse che dovete vedere mi metto sulla partizione clicco con il destro e a questo punto faccio prima una formattazione della partizione ok vedete la voglio in mtfs giustamente quella predefinita e faccio ok a questo punto posso direttamente senza cliccare subito applicare che in questo momento guardate mi da una modifica lo vedete uno ok io mi metto ancora qua sopra clicco sempre con il destro e gli dico che poi voglio anche eliminare questa partizione vedete eliminare rapidamente senza dover soffrire i dati sì perché in questo caso vogliamo una cosa veloce altrimenti posso anche utilizzare i sistemi che vi ho fatto vedere prima per sovrascrivere i dati faccio ok a questo punto guardate ragazzi su applicare io ho due azioni che andranno intraprese se io vado su applicare torniamo qua ve lo faccio vedere vedete io ho queste due operazioni che verranno effettuate automaticamente lui mi andrebbe a formattare tutta questa partizione e a eliminare totalmente la partizione che io a quel punto potrei ricreare addirittura potrei andare su Master Boot Record questo a sinistra quindi cliccare sempre con il tasto destro e per esempio convertirlo in disco GPT che cosa avrei ottenuto a questo punto avrei ottenuto che questo disco sarebbe diventato GPT potrei spostarlo su un sistema UEFI e avrei una partizione totalmente completamente pulita formattata e libera che avrei appunto ricreato per poter ricreare tutte le prove che io eventualmente volessi fare a questo punto qualsiasi hard disk qualsiasi prova voi andiate a fare con questo sistema avrete sempre gli hard disk puliti perfetti cosa che normalmente Windows per esempio non vi permette partition assistant si spettacolare questo software ragazzi spettacolare mi dispiace solo non poter già così immagino che il tutorial sarà durato parecchio tempo perché comunque sono diverse opzioni avrei voluto svilupparle e farvi vedere diverse situazioni ma veramente avremmo fatto inverno insieme perché guardate veramente si va sviscerato come al solito iscrizione non costa nulla like e come al solito il commento quello ragazzi ve lo chiedo proprio dal profondo del cuore perché ci riempie di gioia e ci manda nel famoso brodo di giuggele un abbraccione a tutti e ci vediamo al prossimo video buonasera a tutti ragazzi buonasera a tutti